Settimana tranquilla, quella appena trascorsa in casa Termoli. La vittoria contro il Porto d'Ascoli ha dato grande entusiasmo a tutto l'ambiente e ha aggiunto tre punti pesanti in classifica. La situazione rimane complicata, bisogna inanellare qualche vittoria consecutiva e l'occasione arriva subito. Domani infatti al Cannas si è atteso il Roma City, in un match valido per la 22esima giornata. Vero e proprio scontro salvezza, dove sarà vietato sbagliare. Per i giallorossi occasione più unica che è rara, una vittoria domani, oltre ad accorciare a meno uno sui Romani, distanti ora 4 punti, porterebbe gli atriatici a quota 22 e affrontare il rush finale con più fiducia. Ma non sarà facile, i lasiali arrivano a questa partita forti di tre vittorie consecutive, piegati in ordine Porto d'Ascoli, Avezzano e Vastese, con 4 ore di fatte e 0 subite. Squadra in forma che ha trovato una buona compattezza difensiva e buona efficacia in attacco. Mister Statuto dal mercato ha avuto l'esperto difensore Jacoponi, ex Parma in Serie A. L'attaccante Zammarchi, ex Raganatese, a centro campo invece aggira a Frulla, che avrà il compito di innescare le due punte, Raffini e Meo. Di conto troverà un Termoli che venderà a cara la pelle. In settimana anche il presidente ha fatto visita alla squadra, standole vicino in questo momento delicato e caricare l'ambiente per l'importantissimo match di domani. Tornando al campo, Mister Esposito non dovrebbe cambiare l'undici vittorioso nelle marche, forse uno o al massimo due elementi. Lombardo a difendere la Porta Gialorossa, difesa guidata da Sicignano, Uzzol e Cagliazza. Antezza Scudo davanti la difesa. Centrocampo con Ciofide, Marzo, Maiorino e Bamba. Carnevale e Lorusso l'inedita coppia in attacco, per non dare riferimento alla difesa romano. Out il solo Corcione, uno ancora al meglio. Dalla panchina agli ultimi arrivati di Hop e Sabba Tasso. Dodicesimo vomi in campo dovrà essere il tifo giallorosso, chiamato in massa a riempire lo stadio e spingere i giallorossi a una importantissima vittoria che potrebbe far svoltare il campionato. Nel match d'andata, successo romano per due reti a uno, ma domani sarà tutto un'altra storia. Al Gino Cannasta con fisco ad inizio fissato alle 14.30, Termoli Roma City sarà diretta da signora Alessandro Pizzi della sezione di Bergamo, coadjuvato dagli assistenti di linea Stefano Carchesio e Fabio Dettore, entrambi di Lanciano.